Buongiorno a tutti, è un piacere per me in qualità di membro del Consiglio Generale di Assolombarda darvi il benvenuto all'Italian Insurtech Summit, un evento giunto oramai alla sua terza edizione che fa il punto sull'innovazione del mondo assicurativo italiano. Assolombarda, da sempre attenta agli sviluppi del territorio e all'innovazione, è lieta di patrocinare anche per quest'anno l'evento. Infatti riteniamo che il ruolo dell'associazione sia molto importante in un contesto in forte trasformazione come quello assicurativo, quindi è fondamentale supportare queste iniziative che sono a loro volta iniziative imprenditoriali che hanno un chiaro obiettivo di contribuire all'evoluzione del mercato assicurativo. Il mercato assicurativo è caratterizzato in particolare in Italia da una scarsissima penetrazione dei prodotti nel ramo d'anni, sia per quanto riguarda la penetrazione lato retail che lato imprese. C'è quindi bisogno di sostenere gli sforzi che l'impresa assicurativa sta facendo per aumentare questa penetrazione. In questo senso le associazioni hanno un ruolo veramente fondamentale. Sino ad oggi l'Italia di Insurtech Association ha dimostrato di essere stata molto veloce, di essere stata in grado di aggregare diversi operatori, non solo compagnie assicurative, quindi non solo i cosiddetti addetti al lavoro, ma anche alcune imprese. La nostra raccomandazione è proseguire su questo percorso. Riteniamo che per fare reale education e per quindi portare il consumatore italiano, ripeto sia esso privato che impresa, a modificare il proprio atteggiamento verso la sottoscrizione di prodotti assicurativi c'è molto da fare e bisogna allargare il cosiddetto ecosistema. Quindi l'associazione a nostro avviso dovrà sempre più operare coinvolgendo in particolare imprese per capire quali che sono le esigenze specifiche dei vari settori e insieme arrivare a costruire un'offerta assicurativa che sia in linea con quelle che sono le esigenze del mercato. Il percorso fatto fino ad oggi, ripeto, da parte dell'associazione è sicuramente importante, sia per numerosità di soci coinvolti, sia per numerosità di eventi e iniziative ad oggi effettuate sul mercato. Non mi rimane che augurare buon lavoro a tutti e ci rivedremo un anno prossimo.